Certamente è un momento importante e il sindaco Cozzolino ha convocato questa conferenza dei sindaci. C'è una grande presenza, specialmente del territorio più lontano, il famoso distretto F4. Questo è testimonia che sta virando l'interesse verso la sanità, una sanità che deve cambiare. Oggi presentiamo i programmi operativi aziendali, da cui discenderanno gli atti aziendali, l'organigramma e le funzioni. È una ASL più snella, più vicina al cittadino, pur nelle difficoltà che dobbiamo superare, perché voglio ricordare che la Regione Lazio è in fase di commissariamento da sette anni e stiamo facendo il possibile per uscire da questo tunnel. Un tunnel che, almeno sul commissariamento, avremo dei risultati positivi nei primi dell'anno, perché si uscirà certamente da questa fase di commissariamento, non dal piano di rientro. La nostra ASL, per quanto riguarda i bilanci, è una delle più stabili. Dobbiamo recuperare da oggi al 2016 e entrare in questo cosiddetto pareggio di bilancio, ma si tratta di un recupero raggiungibile. Stiamo ottimizzando i costi e razionalizzando gli sprechi, che purtroppo nel pubblico sono sempre tanti. Quali sono i punti qualificanti, quelli in positivo e quelli in negativo che permangono? Qualificanti la vocazione e il potenziamento dell'ospedale San Paolo. Consegnare entro questi anni un ospedale con tutti i reparti ristrutturati. Adesso, fine novembre, avremo già medicina e risonanza magnetica, però nell'anno 2015 partirà la ristrutturazione della restante parte. Stanno per montare le famose quattro scale antincendio, perché era privo di dotazioni antincendio, quindi la sicurezza è un elemento importante. Ma questo è solo l'inizio, perché avremo anche un grande occhio per quanto riguarda il territorio, quindi il piano liste d'attesa, che sarà ottimizzato creando i percorsi diagnostico-terapeutici. Vogliamo dei PUA che rispondano alle esigenze dei cittadini, una sanità in rete. Sanità in rete vuol dire che noi dobbiamo conoscere che cosa serve, che cosa manca, che cosa dobbiamo dare ai nostri cittadini, in considerazione però di una riorganizzazione, perché le risorse sono quelle che sono e non abbiamo possibilità aggiuntive, almeno per quanto riguarda il 2005. Fermo l'istante alcune sacche critiche, in particolare come possono essere l'area dell'emergenza.